Buongiorno, facciamo entrare Gianni Entra Tina Appuccicona Yeah, ho sentito bene Queste voci fuori dal coro non mi piacciono per niente Diamo una controllata a questo pubblico, per favore Facciamo entrare il nostro tronista, Danilos Ciao, ciao, ciao Bella, eh? Che piace l'addome scortito, eh? Eppure vedi che è scortito, arte di scariche, ci rimane così Ciao, ciao, ciao Maria Allora, Danilos Come è andata questa esterna, che più che un'esterna mi è sembrata un'interna Visto che l'hai passata tutto il tempo al bagno Lasciamo stare, va? Però ti trovo in tiro E te credo Ma cosa hai appreso da questo... Peperoni pure oggi? No, me l'ho già Ma sono pesante lo stesso, questa mensa l'ha cambiata Eh sì, eh Dimma a me, ma sdrumato Beh, più che ho appreso ho perso Esattamente due chili Mi è rimasta sola la scocca E invece Laura, com'è la sua situazione? Beh, inizialmente era critica, eh? Dopo la zaffata, lì c'ha avuto un attimo un trauma È stata malissimo la ragazza Però ho parlato poco fa col medico Mi ha tranquillizzato Ma quando ritorna? Una settimana e torna come nuova, eh? Bravo, Danilos, bravo Però la prossima esterna la facciamo a stomaco vuoto O al massimo colazionati da casa Va bene, appuntamento alla prossima puntata di Uomini e Donne